ciao ragazzi benvenuti ciao ad un video dedicato a what the hell io sono xuder dimmi amore mio dimmi che è un po' che non lo facevamo nuovo promo code ragazzi per what the hell e quindi ragazzi non vogliamo assolutamente farvi perdere tempo vogliamo darvi subito ciancio alle bande vai spiegagli ai ragazzi cliccare sul vostro numerino sul livello in alto ragazzi a sinistra esatto e poi schiacciare con la frecciolina codice promozionale il tasto che c'è qua alla mia spalla ragazzi codice ci cliccate vi appare spiegate sul codice promozionale vi apparirà una tastiera e sotto a voi metterete il vostro posto non prima ragazzi non prima perché ormai lo istituto non conduco più io non è che gli hai visto dai fatti allora se vi sta piacendo questo video ragazzi super pollicione e poi mi raccomando di iscrivervi al canale bravi e di lasciare tantissimi like no ragazzi ne voglio veramente ne voglio veramente tanti di like per questo video ma noi rosita non puoi essere così volgare con loro noi ci ingestiamo via nuovo promo code prendo me ne vado perché fai tutto te nuovo promo code ogni tanto ci vuoi drunken drunken lady oh yes invia codice gli diamo un ok invia codice shaman e arrivano ragazzi 15 berta bionda berta bionda ragazzi ve lo sapete va sul barile e tira dritto come i pazzi e ragazzi direi che questo brevissimo video può considerarsi finito noi vi ringraziamo tantissimo e vi salutiamo ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao